Un cordiale saluto a tutti gli amici della Diocesi di Cuneo e di Fossano. Ben volentieri voglio fare gli auguri di buon Natale e di buone feste a tutti voi, nella certezza che questo mistero del Dio che si è fatto uomo è un qualche cosa di grande che ci tocca a tutti da vicino. Vorrei ricordare che il Signore è entrato in punta di piedi nella storia degli uomini, abbandonato da tutti, anzi è sperimentato anche il fatto di essere una specie di rifugiato e i suoi genitori, Maria e Giuseppe, avvolti da un mistero incredibile, hanno vissuto la nascita del Signore in una grotta in silenzio e in contemplazione. È anche molto bello pensare che i primi che sono andati ad accogliere il Signore sono stati quelli del posto, i più poveri, i pastori. Anche per noi deve essere l'occasione perché questo Natale non sia soltanto luci o preoccupazioni di non dimenticare nessuno nel fare dei regali, ma sia l'occasione anche per guardarci un po' nel profondo e per vedere che cosa noi veramente abbiamo bisogno. Magari nel nostro cuore se facciamo anche un po' di pulizia e ci apriamo al tono e alla condivisione, credo proprio sia un modo proprio per vivere il Natale. In questa prospettiva auguro a tutti buone feste, ma soprattutto buon Natale 2019. Grazie.